Robocode non è solamente un gioco, il coding è uno strumento capace di rendere dei giovanissimi ragazzi, come i nostri Robocoder, dei veri e propri inventori. Io sono Aida, lui è Andrea e lei è Miriam e veniamo dal Galilei di Mirandola in provincia di Modena. Abbiamo costruito il nostro progetto che si chiama Andy Robot pensando a tutti quegli studenti che per un lungo periodo non possono recarsi a scuola per delle malattie e loro tramite un'applicazione installata nel loro telefono riescono a muovere un robot che è posizionato in classe e partecipare alla lezione come se fossero presenti. Questo robot è dotato di un tablet che grazie ad una videochiamata fa interagire lo studente con la classe e è dotato di una base mobile che permette al studente a casa di muoversi nella scuola o anche essere più incluso nella vita sociale e fare ricreazione con i compagni. Il linguaggio di programmazione si basa su Arduino e la comunicazione tra Arduino e il telefono avviene tramite un server chiamato Blink che ha un'applicazione scaricabile su tutti i telefoni e lo possiamo vedere in questo dispositivo e è personalizzabile. Lavorare in team è stato molto bello soprattutto scherzare fra di noi, riuscire a collaborare, avere dei dibattiti costruttivi su come programmarlo, su quali applicazioni fossero migliori e dividersi i compiti è stato all'inizio molto facile, poi alla fine ognuno riusciva a dare una mano a tutti.